R1250 GS il mito compie 40 anni e li festeggia qui a Motowix con questa livrea gialla e nera che è un tributo un omaggio alla mitica R100 GS del 1988 una moto incredibile dal successo commerciale quasi unico pensate che ha venduto un milione e duecentomila pezzi in questi 40 anni qual è il suo segreto non lo sappiamo ma tanto 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 probabilmente questo boxer qui la GS è disponibile in due versioni la standard a 18.150 euro chiave in mano mentre l'adventure esce a 20.100 euro indicativi chiavi in mano il motore condiviso e resta il boxer bicilindrico quattro tempi di 1254 centimetri cubi che è passato a euro 5 ma ha mantenuto le sue prestazioni invariate quindi 136 cavalli di potenza massima a 7.750 giri e 143 newton metri di coppia a 6.250 giri rispetto alla versione precedente la euro 4 resta invariata anche tutta la parte ciclistica quindi telaio tubolare diviso in due parti con il motore che ha funzione portante e la sospensione anteriore telelever GS standard e adventure hanno cerchi tubeless da 19 all'anteriore e da 17 al posteriore in lega sulla prima e a raggi incrociati sulla seconda le differenze ci sono e stanno innanzitutto nell'altezza della sella 850 mm da terra per la versione standard 890 mm invece per la versione adventure è diversa anche la capacità del serbatoio l'adventure contiene addirittura 30 litri mentre la base si ferma intorno ai 20 litri c'è differenza anche nella escursione delle sospensioni che è maggiore per la GS più votata all'off-road 210-220 mm in questo caso quindi una decina in più sia davanti sia dietro rispetto alla versione standard che però si prende la sua rivincita in fatto di peso viene dichiarato 249 kg quindi una ventina in meno rispetto all'adventure in comune c'è l'impianto frenante che è composto da due dischi anteriori flottanti di 305 mm con pinza radiale a 4 pistoncini e disco singolo al posteriore di 276 mm sempre con pinza flottante a 2 pistoncini per entrambe le moto la dotazione di serie si arricchisce di tantissimi nuovi accessori il Dynamic Traction Control, la nuova modalità Eco che aiuta a guidare nel modo più efficiente possibile poi c'è l'Integral ABS Pro che regola l'intervento della frenata dell'ABS appunto in base alla modalità selezionata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti